E questa web tv arriva prima degli altri cari amici, questa web tv arriva prima degli altri, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che se uno ha scritto un'opera come questa, arriva prima degli altri a dare le notizie, arriva prima delle televisioni, arriva prima anche dei grandi quotidiani, ma pensate voi cosa succede? Questa web tv arriva prima degli altri, io ho fatto qualche giorno fa un video intitolato armi italiane agli israeliani, di questo video voi potrete vedere la data armi italiane agli israeliani, dove dicevo che noi abbiamo una grande industria bellica e che lo Stato di Israele è il nostro primo cliente, nel 2014, cioè nel 2012, che le statistiche arrivano al 2012, lo Stato di Israele è stato il nostro primo cliente, il primo, il più importante cliente a comprare le nostre armi, per cui nel video intitolato armi italiane agli israeliani dicevo che i poveri bambini di Gaza vengono massacrati anche con le nostre armi, noi siamo conniventi con il massacro a Gaza. Poi recentemente, stamattina ho fatto un altro video intitolato protestiamo contro il massacro a Gaza e una carissima amica mi dice professore guardi guardi cosa ha scritto il fatto quotidiano e io vado a leggere cosa ha scritto il fatto quotidiano e il fatto quotidiano scrive le stesse cose che io avevo detto il giorno prima nel mio video intitolato armi italiane agli israeliani, ci sono le date, ci sono le date, dite tutto quello che vi pare ma parlano le date, capito? Ma quante volte ve l'ho detto che non esiste al mondo una web tv come questa cari amici come questa di Serafino Massoni, io sono l'unico redattore ma arrivo prima degli altri, arrivo, arrivo prima, ma quanto so contento di essere arrivato prima del pregiato quotidiano, il fatto, come so il fatto quotidiano, come so contento perché lì sono tanti in redazione, capito? Non ce n'è uno solo come me e loro la notizia l'hanno data mi pare in prima pagina, una notizia importante io l'avevo data il giorno prima e uno può anche sospettare, capito? E uno può anche sospettare e le date parlano chiaro le date, perché su Twitter si parla dei miei video su Twitter e Twitter è guardato anche dalla redazione del fatto quotidiano, capito? va bene, va bene, ringrazio tanto l'amica che mi ha informato, verificate, verificate qualche cosa resterà, grazie cari amici, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni